Questo ponte ha rivestito un ruolo veramente strategico già quando era stato pensato nel 2004, cioè collegare il comune di Vallefoglia con il comune di Tavuglia. Oggi con il progetto che come Regione Marche stiamo portando avanti, ovviamente questo ponte fa parte di questo itinerario che collegherà da Pegero, praticamente dal ponte vecchio di Pegero arriverà a Casinina. Un progetto dove la Regione Marche ha finanziato con 5 milioni e mezzo di euro. Siamo arrivati già all'approvazione del progetto preliminare in conferenza dei servizi. La Regione ha già fatto il bando per individuare i soggetti che dovranno fare il progetto esecutivo. Io mi auguro che entro qualche settimana verrà definito chi sarà il progettista che dovrà fare l'esecutivo e entro il 2021 dovranno partire i primi lavori. Questa è veramente una giornata importante. Io penso che i cittadini ancora non si sono resi conto che avranno un'infrastruttura della sostenibilità, cioè una vera e propria pista ciclabile che collegherà la città di Pesero con la città con Casinina. Ovviamente l'obiettivo è di individuare ulteriori risorse per proseguire la ciclabile che arriva a Casinina e farla arrivare fino in cima alla volata del foglio. Oggi l'intervento è un intervento importante perché unisce il polo scolastico delle scuole medie di Pian del Brusco, il polo scolastico di Bottega, unisce queste scuole che potranno usufruire del teatro Giovanni Santi che nascerà a Bottega, 330 posti e diciamo dà l'idea che si possono fare tante cose. Qui ci sono quasi 30 chilometri di piste pedonali ciclabili, 20 delle quali su Valle Foglia e il resto su Tavuglia. Tutti le persone si godono questo habitat ancora molto integro, importante e quindi diciamo che adesso insieme alla provincia che ringraziamo, il Presidente Paolini e insieme al Comune di Tavuglia cercheremo di tenerlo in ordine e magari di aggiustare un po' meglio anche le piste pedonali ciclabili. Sarà a nostro interesse fare in modo che questa qua diventi veramente non un collegamento ma un'idea di progettualità per un turismo sostenibile, un turismo che possa prevedere anche gente che cammina e può camminare tranquillamente senza rischiare di farlo lungo una strada trafficata d'auto e anche le biciclette. Perché? Perché è un turismo che nel nord Europa sta avendo tanto successo e pian piano sta prendendo piede anche in Italia. Ecco, mi auguro che questo sia il primo di una serie di progetti che possano andare in quella direzione. Noi ci stiamo puntando tanto, anche Tavuglia stessa, stiamo puntando insomma al turismo. Un turismo fatto proprio di natura, fatto di libertà, fatto di passeggiate. Quindi siamo molto contenti di aver partecipato nella realizzazione della sistemazione di questo ponte, che è vero che è Vallefoglia ma è anche vero che è di collegamento a Pian del Bruscolo, che è comunque un luogo molto importante, sia perché ci sono le scuole medie, sia perché c'è la piscina, sia perché ci sono delle palestre, sia perché facciamo tutti parte dell'Unione Pian del Bruscolo e secondo me è questo che sia da spinta per poter lavorare sempre insieme in maniera così efficace.